4, 2, 3 Ascensore! Porta qui la tua famiglia, padre, madre, figlio e figlia Io che sono fra i più piccini, vengo ai grandi magazzini Stop! Com'era? Credo proprio che sia una specie di spettacolo fantasmagorico di tutti gli attori di quel momento Prendi al volo l'occasione Porta a casa la farone Grandi magazzini Per grandi e per vicini Soldi e saldi regalati Con i prezzi già scontati Non si ricorda che quando ognuno faceva le sue pose Faceva tutte le sue interpretazioni Poi noi avevamo una specie di fondale Che era sempre lo stesso, grigio celeste Su cui con le stesse misure Con il direttore della fotografia Si mettevano lì Caranino Celeste E cantava il suo pezzo Poi è venuto fuori un coro Perché è venuto montato in moviola Da Antonio Siciliano Praticamente il montaggio così Ed è stato il trailer del film Che era Mi ricordo che anche Lugherini Che diciamo è un tecnico di trailer di pubblicità Quando ha detto Ah perfetto Basta non facciamo altro Perché questo è splendido Noi abbiamo fatto Io e Castellano Anche la commedia italiana Abbiamo fatto dei film Addirittura Diciamo proprio capostipiti La commedia italiana Perché abbiamo scritto il federale Con Ugo Tognazzi Però poi man mano A un certo punto La commedia italiana Si è evoluta È diventata sempre più sofisticata Anche perché dei bravi sceneggiatori Tipo Agge Scarpelli L'hanno veramente survoltata A quel punto Noi personalmente Sentivamo che Più di quello che avevano fatto loro Non si poteva fare E quindi noi abbiamo Siamo quelli che abbiamo iniziato A fare un altro tipo di commedia Che noi chiamavamo Iperrealismo Così stupidamente Che era praticamente La commedia all'americana Quindi anche Grandi Magazini Ha un po' una commedia all'americana Come lo era Manni di Velluto Come era mia moglie una strega Come era Bisberico Tomato Cioè che è solo un po' fuori da tutto Però fa dei caratteri E li esagera Senta le dico subito questo Io sono Antonio Borazzi De Candalupo in Sabina Abitando in via Praterina 54 Ho partecipato al referendum Del Grande Magazini E dal comunicato televisivo Sono venuto a conoscenza Ad essere diventato Il fortunato vingitore Del buon acquisto Dei 500.000 lire Che volevo fa' Diciamo che è un ruolo Che corrisponde abbastanza Alla sua maniera di recitare Cioè lui l'ha fatto volentieri Perché praticamente Se l'è costruito addosso Un po' metallaro Poco atto Un po' così Devo dire che il personaggio Lui era già piaciuto come era Però man mano Come vari personaggi di questo film Man mano è cambiato Perché il personaggio Invece era un ragioniere Meticoloso Preciso Che faceva solo I calcoli Su questo buono Che aveva vinto Che cosa poteva comprare Finché poi la commessa Diceva Ci sarei Che lo accompagnava In queste scurse E diceva Ci sarei io Lui però ha cambiato Ha fatto tutto Con questo personaggio qua Perché evidentemente Questi tipi di personaggi Rientrano di più Nelle sue corde Ma diciamo che Secondo me È un compito anche Dei registi È secondare gli attori Perché quando l'attore Fa una cosa Che gli piace Rende molto di più Che costringere a fare una cosa Così come scritta Stai a sedire Pocotà Deragliamento di un treno a Pocotà E sono morti 250 persone 758 feriti Tu ci stavi sul treno a Pocotà? No E allora Che ti cazza fa? Sidney Al centro di Sidney È crollato un grosso palazzo Ci sono 757 morti Tu ci stavi a Sidney Nel palazzo crollato? No E allora perché sei cazzetto? Stanganica Scendinei di migliaia di persone E muoiono di fame La stanganica Tu che abiti la stanganica? No E non ti cazzare mica Diciamo però Che era un film Abbastanza difficile Perché doveva durare Difficile perché cambiava Era sempre in osmosi Sempre in cambiamento Perché doveva durare Normalmente Un'ora e tre quarti Un'ora e quaranta Comunque era già Nell'idea di fare un film Abbastanza lungo Ma piano piano È durato tre ore Infatti c'è Una versione televisiva In due puntate Che è circa tre ore Perché man mano Arrivava Vittorio Preso da una mania di grandezza A telefonare Dice Allora c'è pure Paolo Villaggio Allora c'è pure Ornella Muti E noi La sera scriviamo Il sketch O il soggetto O l'avventura Il giorno dopo Li girevamo E così Piano 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 È un film Abbastanza esemplare Per quei tempi Perché contiene un po' Tutti gli attori Del cinema Commedia italiano Conosceramo e conosciamo Tutti gli attori italiani Facciamo una proposta Che veniva abbastanza Spesso accolta Ma spesso anche Cambiava Nel senso Per esempio Che Con Paolo Villaggio Noi volevamo fare Sì la storia di uno Usciva da un carcere Praticamente Un taccheggiatore Un ladro Dei grandi mezzini In realtà Lui piano piano Siccome si era innamorato Non si sa perché In quel periodo C'era un fantasista Che si chiamava Zed Che faceva l'imitazione A una specie di robot Che andava molto forte Allora abbiamo scritto Con lui Praticamente ispirati da lui Uno sketch Un episodio In cui lui Impersona questo robot Perché serve Perché Viene lasciato là Per fare un colpo In realtà Gli ne capitano Tutti i colori Mi serve un piccolo Frammento del robot Un dito Un dito no Cosa dice? Dito no Ah dice Tito no E allora? Un lobo Ah ecco Piccoli pezzettini Di lobo Se mi dispiace Piccoli dottore Ecco fatto Non è successo Niente In questo caso Un retroscena Un retroscena Abbastanza divertente Anche perché Succedeva spesso E magari Un episodio Pensato per uno Poi lo faceva l'altro Perché quell'altro Non era disponibile Questo episodio qua Di Manfredi Deva fare Alberto Sordi Perché Vittorio Ci teneva molto E ci fosse Sì Dino Manfredi Magari in un altro ruolo Manca Alberto Sordi Alberto Sordi Allora Per convincerlo Mi ricordo Che Castellano Gli disse Dice sai Dice questo qua È la storia Di un attore Al tramonto Un bianco Così Dice guarda Perché se no Vorremmo sapere Lui credeva Di questo modo Di gasarlo Perché diremmo a Nino Manfredi a Nino Lui ha detto No fatelo a lui Un attore al tramonto Lui Marcuzzo Ma allora Non hai smesso di bere Ma Sivu Com'è sta parte È un protagonista Eh beh Nella tua apparizione L'apparizione che fai È un'apparizione Da protagonista Apparizione Ma che è un film De fantasmi No È uno short pubblicitario Dei grandi magazzini Cose Chi c'è chi Sembra rimasto Un vaffanculo Così Te lo davo E le culotte Faceva Il rappresentante Il manager Di Nino Manfredi Cioè praticamente L'ha fatto molto bene Perché Leo è molto bravo Praticamente Un Uno che Vuole mantenere Un po' Anche questo In commedia Di chiamare americana Perché abbiamo visto Tante commedie americane Anche una con Woody Allen In cui c'è il Manager Di un attore Che è al tramonto Che cerca di difendere Il suo protetto Un po' ci litiga Un po' sono amici Ma poi alla fine Lo porta al successo Siamo pronti Alexi ando vai Sul set E esci Che dobbiamo girare Chi è questo Cognac E' dell'operatore Glielo porto io Ascensore Esci Che dobbiamo girare Esci Ma Bonanni Come era battuta Anch'io compro I grandi magazzini Come? Anch'io compro I grandi magazzini Anche Bonanni Anche Bonanni Compra i grandi magazzini Castellano Gli è venuto in mente Subito Che il direttore I grandi magazzini Dove essere Placido Anche perché lo conoscevamo Placido Oh mi scusi Mi ero distratta Quindi quando gli abbiamo proposto Ha accettato E diciamo Ha fatto pure abbastanza bene Oltretutto c'è la sua ex moglie Che fa la sua segretaria C'è dei carichi pendenti? No E dai una mano ai dipendenti C'è una buona fedina penale? E fai un sorriso al personale Finale Finale Oh yes You never know Vabbè Anche stavolta mi hai buggerato Eh Nicola Però queste cose Vanno fatte Con discrezione Discrezione Abbiamo pensato Che fuori dal grande magazzino C'era anche un mendicante Come in tutte le strade In tutti i grandi magazzini Fare questo ruolo del mendicante L'abbiamo pensato Di farlo insieme a sua figlia Infatti è venuto bene È venuto un personaggio Un po' lunare Ecco a proposito Di quel episodio In quel caso Noi stavamo solo a Milano Stavamo al nord a girare Perché avevamo trovato Un grande magazzino là E diciamo Siamo stati raggiunti a Banfilla E lì c'è una sequenza E lui canta Poi doveva cantare Cantando sotto la pioggia Poi non ci sono stati diritti Allora è stata fatta Una canzone impossibile E lì con l'ombrello La figlia cantava Sotto questa pioggia Una sera che poi Pioveva anche davvero C'è Lamuti In questo film In grandi magazzini Che fa se stessa Fa un'attrice Che va nei grandi magazzini E poi incontra una persona Un ragazzo Che si innamora di lei Ho ricevuto le tue 424 lettere 426 Due saranno perse Sai io non ho il tempo Di rispondere a tutti i miei ammiratori Eh la capisco Sai quanti Quanti la scrivono Però tu mi hai incuriosito Non ne ho mai ricevute così tante Mi offri un caffè? Un caffè? Certo Un caffè Al bar Oppure non puoi Durante l'ora di lavoro Posso Quando non posso Per lei posso tutto No Dove? Sì Vai rettilare C'è Pozzetto Con cui abbiamo cercato Molto il ruolo per lui Perché noi abbiamo fatto Un grandissimo successo Con Renato Che era Il ragazzo di campagna Un film che è andato molto bene Quindi lui ci teneva A ben figurare Finché abbiamo trovato Questo personaggio Mi sembra tuttora Molto divertente Che è quello Che gli danno i pacchi Da consegnare Per i clienti Che li hanno comprati A grandi magazzini E poi in giro Per la città Con tutte le avventure Che gli capitano E sicuramente Un personaggio vincente Chi è? Grandi magazzini Signora Faccio un pacco per lei Entri Cavallo Paura Paura Stia tranquillo Basta che non faccia Movimenti bruschi O gesti inconsulti Non le succede niente Paura Adesso posso muovermi? Sì Sì ma faccia piano Venga Boldi che Boldi faceva una specie di guardia giurata Che controlla Chi Che nessuno I taccheggiatori Le taccheggiatrici O comunque quelli Perché ancora non c'erano queste cose sofisticate Che suonava l'allarme Allora fa questa e sta l'uscita così E Teocoli Che diciamo Se loro facevano molte Hanno fatto molti sketch in televisione insieme Lui ha voluto Teo Per questa cosa In cui c'è un Un visitatore Che con la scusa di provare una bicicletta E vedere come funziona Praticamente se ne va via in bicicletta Lei qua appositalmente per srapignare Faccio un attimo la faccia di quello che si sta srapignando Un po' di più Che miseria Lì Oh A posto Cosa ha fatto? Ma segnala Identificato la prossima volta Ma lei ha segnalato Braccato subito La prossima volta Lei con quel segno Braccato subito La prossima volta Pedalare No pedalare un momento Per piacere pedalare Pedalare Calma pedalare Chiamo rinforzi Chiamo rinforzi Vabbè Pedalare Pedalare La signora malattente Però devo dire un'altra cosa Che in questo film ci sono state tante persone Hanno lavorato tante persone e poi sono diventati In questo caso devo dire due attrici E sono diventati importanti Molto importanti Una è Eva Grimaldi E l'altra è Francesca Dell'Era Grazie a tutti Queste due ragazze sono Eva Grimaldi e Francesca Dell'Era Che poi sono diventate delle star Sia in televisione Nel cinema Hanno fatto tanti film Diciamo che è stato un po' Un film che ha veramente a riunire tutti Sia chi era al culmine Sia chi era all'inizio Sormei Ma che vuoi? Il telefono Si fa presto a dire Sormei e il telefono Pronto? Papà? Sì? Papà sono Evaristo Ho conosciuto Umberto Anzellotti Il direttore del personale È una bravissima persona E sti cazzi? Va bene Grazie papà Ciao Ciao Eh ciao Si fa presto a dire ciao 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 Grazie a tutti.